Dona Maggio, un gran gol per chiudere una stagione importante che ha visto il Portici salvo già con diverse giornate di anticipo. Sì dai, ci voleva oggi chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico che lo merita e sono felice di questo gol e di questa vittoria. Ecco, il Portici ha cambiato tre allenatori quest'anno, come giudichi i rapporti con questi tre che sono cambiati in questi mesi? Questo è un po' brutto da dire perché comunque quando un allenatore va via credo che la colpa in parte è nostra. Dei giocatori credo. Mi spiace perché tre gestioni sono tanti, però purtroppo il calcio è anche questo. Però siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo con mille difficoltà, con tre gestioni come hai detto tu, con sei, sette campi cambiati. L'importante è aver portato la nave a Porto. Senti, hai fatto dodici gol quest'anno, tredici, tredici, ok. Resterei qui oppure penserei a qualche squadra più grande oppure non lo so? No, ho fatto questi tredici gol, però comunque ho avuto un infortuno abbastanza grave, ho stato due mesi fermo, però sono contento. Ora ne parlo con loro e vediamo insieme a loro la cosa più giusta. Ennis, un gol bellissimo, come descrivicelo? Un gol bello, sì, sicuramente perché comunque lo aspettavo che era un anno che non avevo ancora segnato e finalmente è arrivata l'ultima giornata. Sicuramente speravamo nel Parigi perché comunque alla fine stavamo giocando bene. Peccato che è finito così. Comunque resta che abbiamo fatto un grande campionato e questo è l'importante. Ecco, un campionato di altissimo livello perché comunque la Gelbison, grazie ai suoi giovani, ai suoi uomini, è riuscita praticamente a centrare una salvezza già da molto tempo fa. Quindi tu com'è giù di questa stagione e soprattutto se tu ti senti pronto per una squadra importante o restare qui? No, adesso sicuramente non lo so che cosa farò l'anno prossimo, questo momento non lo so. Sicuramente se ci sarà qualche squadra, ne riparleremo a giugno e a luglio volevo dire e poi si vede. Sicuramente abbiamo fatto un grande campionato quest'anno, questo è quello che resta e questo è quello che diciamo proseguiamo per questa strada. Ormai è finita, è finita nel miglior modo possibile. Sicuramente fare 47 punti è stata una cosa bella, diciamo. Qual è stato importante la mano del mister in questa squadra? Sicuramente tantissimo, anche perché lui diciamo a dicembre ha rinforzato la squadra, ha preso altri due o tre giocatori, come Cipolletta, De Luca, Parisi, Uliano, lo stesso che è arrivato ad ottobre, che ci ha dato secondo me una grandissima mano. Questa sicuramente la mano del mister è servita tanto, anche perché a ballo, anche perché di solito essendo che non ci sta un direttore, che è Paolino, diciamo il mister è quello che se la vede lui diciamo quando deve fare la squadra.